Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino alle 17 di oggi pomeriggio chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio per lavori in entrambe le direzioni. Sulla FIPILI per lavori 3 km di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 67 Tosco-Romagnola restringimento di carreggiata per frana tra San Godenzo e Lo Specchio. A Firenze in via Ghibellina per lavori alla rete fognaria di vieti di transito e sosta tra Via delle Conce e Via delle Casine. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!